aurelia viceconti categoria academy allora aurelia ci racconti come ti sei avvicinata al mondo del kart come è nata la tua passione beh all'inizio c'è quattro anni fa mio cugino è andato a provare in una pista e volevo andarci anch'io per vedere un po perché visto che mio zio e mio papà correvano volevo vedere un po com'è questo mondo del kart e vabbè all'inizio mi vergognavo perché volevo andare anch'io però alla fine sono andata ho fatto la mia prima gara e è stata bella dai un po di problemi e dopo ho chiesto mio papà quando faccio le gare ufficiali mi ha preso il 60 e vabbè non ho fatto gare purtroppo ma però è stata bella questa mia esperienza infatti quando ho venduto il kart mi sono sentita un po giù perché era affezionata però dopo mio papà per il compleanno mi ha fatto una grandissima sorpresa e mi ha preso il 125 l'academy ed è stato bello l'anno scorso ho fatto le mie prime gare c'era un nuovo mondo ed è stato bellissimo c'è un po di sfortuna qua e là e quest'anno sto migliorando sono tra i decimi post c'è la prima nei primi dieci senti e comunque questo è un bell'ambiente dove ci si diverte ci si conosce tutti e quindi il bilancio che puoi avere di queste esperienze senz'altro positivo si è positivo un po di amicizie qua e là bellissimo ci si diverte fatto molti amici e sono felice ciao 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 ciao